Mercato! 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 Bocciata senza mezzi termini la delocalizzazione del mercato del mercoledì sulla strada Parco a Pescara, la protesta punta il dito contro la decisione dell'amministrazione comunale di spacchettarlo in tre zone, nell'area del parcheggio del Bingo, nel vicino parcheggio tra via Raffaello e via Spiga, e in via Diaz al ridosso dell'attuale posizionamento. Il motivo sta nel fatto che il 15 gennaio partiranno i lavori di elettrificazione della filovia da parte di Tua, dureranno almeno un anno. Per i 110 operatori il trasferimento è troppo dispersivo, la soluzione ideale sarebbe stata concentrare il mercato in un solo punto, e inoltre non è ancora certo quando sarà possibile partire, come sottolinea Enzo Di Giulia Antonio, presidente di Nuova Abruzzo 2001. Il mercato verrà spostato, secondo il Comune, in tre zone, vi soddisfa questa scelta? No, non ci soddisfa minimamente, ma oltretutto, anche questa situazione prospettata, è rimasta pure indietro, le aree non sono state ancora, non c'è stata un'assegnazione, non è stata pubblicata una gradatoria, perciò dovremmo restare a casa, cosa che non lo so, sinceramente in tutti questi anni che faccio il commerciante, non mi è mai successo, però questo è. Farete dei ricorsi? Sì, sicuramente faremo un ricorso, sia contro tua, ma anche contro il Comune, perché alla fine siamo stati danneggiati un po' da tutti. Stupore sulla vicenda è stato espresso dall'assessore Alfredo Cremonese, in conferenza stampa, perché ha ricordato, si sta parlando di un progetto partito oltre 20 anni fa, e che contempla il passaggio dei mezzi elettrici sulla strada parco, per i quali sono necessari quei lavori. Cremonese ha poi aggiunto. Il nuovo mercato sperimentale non partirà proprio mercoledì prossimo, ci saranno circa, si arriverà fino a gennaio, inizio febbraio, perché ci sono le procedure propedeutiche in corso, l'assegnazione, la pubblicazione, e poi si provvederà a fare le linee a terra, quindi con l'operatività del mercato. Io penso che per i primi di febbraio, al massimo, il nuovo mercato sperimentale potrebbe essere operativo. Abbiamo convocato, abbiamo fatto tante riunioni, abbiamo fatto 16 progetti, abbiamo anche trovato un'area per tenere unito il mercato nel parcheggio dietro le naedi, ma purtroppo gli operatori hanno rifiutato questa possibilità, e abbiamo provveduto allo spacchettamento. Lancio attraverso noi anche una proposta, vedo tante persone che dicono non va bene lo spacchettamento a tre, purtroppo mettere tutti insieme il mercato in quell'area è davvero difficile, ma se qualcuno ha una proposta, questa amministrazione è pronta e aperta a recepire qualsiasi tipo di proposta.